La variante Omicron è la più tosta di tutte. Sembra una cattiva notizia, ma invece è un segnale positivo. Insomma, alla Omicron dobbiamo pure essere grati. Abbiamo avuto tutta l'estate una tale quantità di persone positive, quindi comunque immunizzate in qualche modo, che la Centaurus non ha trovato proprio posto, cioè non ha trovato l'ospite da infettare, perché la diffusione dell'Omicron 5 è stata a un certo punto una cosa enorme. In qualche modo la tenuta dell'Omicron 5 forse ce la dobbiamo quasi augurare, nel senso che fa da barriera a tutto il resto. Quanto alla XBB, il professor Stupia dice che come caratteristiche molecolari ha la possibilità di essere più infettiva, ma anche lei deve trovare in qualche modo spazio, deve trovare l'ospite e se non lo trova rimarrà come la Centaurus alcuni casi isolati e non si affermerà. È una variante che appartiene a una famiglia che prende il nome di Pentagon e che deriva dall'Omicron 2, è un misto tra l'Omicron 2 e la 5, diciamo, perché poi ognuno di questi ceppi va cambiando, seguendo itinerari suoi. La storia del virus ci ha insegnato però che nel passaggio da ceppo di One inglese, inglese a Delta, Delta Omicron, ogni volta che arrivava una variante nuova poi rinfettava. Quindi se tiene Omicron 5 potrebbe essere inizio dell'uscita, soprattutto in attesa dei vaccini che stanno per arrivare anti-Omicron. Allora a quel punto forse veramente vediamo la luce in fondo al tunnel. Se arriva invece una variante in grado di aggirare la protezione immunitaria contro Omicron, non siamo punte d'accapo. Però io adesso forse per la prima volta un po' ottimista sono, anche se il prezzo che abbiamo pagato per arrivare a questo è stato alto, perché quest'estate rispetto alle altre estate abbiamo avuto tantissimi morti, quindi non ci siamo arrivati in modo indolore. Spero però che almeno sia servito a qualcosa. Molte persone non si fanno il vaccino, anche la quarta dose, perché dicono vabbè ma tanto adesso arriva quella nuova, e ogni volta così. Lei consiglia comunque di fare quello che c'è a disposizione? Sugli anziani in cui la quarta dose serve soprattutto a proteggere dagli effetti del virus è comunque consigliabile fare la quarta. Se una persona invece non è in una categoria a rischio può anche aspettare, anche perché ormai si diceva che dovevano arrivare a metà ottobre, e quindi fare i vaccini che coprono anche Omicron, possibilmente insieme all'influenza. Chi ha avuto, come nel mio caso, il Covid a quest'estate può ancora aspettare prima di fare qualsiasi forma di vaccinazione, perché per un periodo di circa 3-4 mesi comunque è coperto dal punto di vista immunitario. Non ricominciamo le polemiche sui vaccini, perché ne abbiamo sentite troppe, e poi appena disponibili correte tutti a fare il vaccino.